Bentornati sul canale di giornalismo del Cuore Italia 1. Le ultime notizie di oggi like Il VIP cerca di capire una volta per tutte quanto accaduto tra Della e Alex La convivenza tra Della e Baru ha subito numerosi alti e bassi Il VIP non ha mai nascosto il suo punto di vista e ha sempre pensato che l'attrice, insieme ad Alex, nascondesse qualcosa Subito dopo la puntata Baru ne ha approfittato per confrontarsi con Della soprattutto per cercare di capire qualcosa in più sulla sua personalità e sulle sue reali intenzioni Io sono consapevole di quello che ho vissuto esclama Della, ma spiega che, a prescindere dalle sofferenze dovute ai problemi vissuti con Alex, è riuscita ad andare avanti cercando di aumentare la sua autostima, io valgo, non mi devo sottovalutare L'attrice, inoltre, dice di essere pronta a tutto, se lui che è o non che, è indifferente esclama Baru non accetta che i due abbiano strumentalizzato fin dall'inizio la loro storia solo per avere visibilità ed è questo che lo ha lasciato un po' perplesso A prescindere dai suoi numerosi dubbi, però, si sente di dover dare un consiglio ben preciso a Della, cercare di essere più consapevole della situazione e di ciò che è accaduto Dopo questa conversazione, Baru riuscirà a riporre più fiducia in Della? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video